musica 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 questa nuova stagione in championship vediamo un po' musica musica dritti verso la premia la squadra si è rinforzata ho preso un attaccante adesso sto pensando se vengono anche Pieri match attesissimo in entrambe le tifoserie questione di attimi prima del calcio d'inizio con me c'è ovviamente Stavaronava che saluto pronto per il commento tecnico riparte al campionato per queste due squadre entrambe ci terranno a ben figurare l'esordio soprattutto i padroni di casa di fronte al proprio pubblico e aspetto la occhio al pallone per il possibile vantaggio ho sostituito Ammod che ha finito la sua carriera ho messo le scarpette al chiodo ed ho trovato un giovane di 18 anni a 68 un assetto direi neutro che garantisce la giusta copertura in difesa ma che si rivela buono anche in attacco magari alzando la posizione degli esterni assaggio da dimenticare palla regalata agli avversari mi sembrava buono come giocatore e come ho visto palla schizza via dopo il contrasto la squadra sta migliorando molto questo lo schieramento ripartenzo degli ospiti non bisogna spendere tutti i soldi non ha senso portare il giocatore è piuttosto 20.000 passi non ha senso analizzando quelle che sono le forze in campo oggi dobbiamo fidarci di lui dunque alla palla del vantaggio attenzione c'è fuori gioco possibilità per la ripartenza adesso bisogna insegnare però eh gol giunto al termine in contropiede perfetto avevano l'occasione per colpire in contropiede e non l'hanno sprecata bisogna prendere anche un portiere se riesco a trovarlo per un coltitante al massimo svincolato per avere un terzo portiere per avere un altro portiere poi vediamo eh poi ricordiamoci che possiamo sempre averlo dal vivaio recupera la palla intercettando bene il pallone pallone interessante riceve la palla attenzione pericoloso si porta da più due con questo gol con un margine abbastanza rassicurante ma che ovviamente lascia ancora qualche sprigaglio per la riporta hanno un discreto vantaggio da gestire questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare epi siano gli altri da fare la prima mossa voglio spendere troppi soldi posizione ideale e se riesco vediamo cosa fa ora attenzione pericolo e c'è il gol si allarga il divario inesorabile tra le due squadre chiaramente non so neanche dove trovino la voglia di continuare il gol maragni a metri può colpire da lì ed entra in rete gol come prima di partita di il campionato è fantastico un dominio fin qui assoluto di questo match e siamo ancora nella prima parte di gara e beh l'extra time sarà di due minuti alla che torna in possesso a spazio per andare attenzione rispizzi al primo tiro squadre negli sfogliatori finisce al primo tempo tutto inizia la ripresa del match finora davvero a senso unico l'idea ce l'ho però vediamo che come centrocampisti offensivi diciamo che per fantasista ne abbiamo tre quindi bisogna sistemare un po' la rosa pallone invitante occhio che guadagna metri potrebbe andare a cross ecco il tiro in tutto che evita il gol c'è il cross in mezzo non un gran che qui l'intervento del difensore il portiere di pugno a lontana bravo qui a smarcarsi vediamo cosa inventa ora attenzione perché è pericoloso a spazio prova ecco il gol bravissimo nel liberarsi è riuscito a trovare un gran gol nonostante un'attenta marcatura è riuscito a liberarsi a segnare 5 a 0 partita assolutamente arbitro che assegna il calcio di punizione l'ammunizione da parte dell'arbitro è solo verbale in questo caso per questa volta è graziato buona lettura dell'azione intercettato bene il passaggio pressione qui sul portatore di palla palla consegnata può colpire da lì e la messa mamma mia ho trovato un attaccante giovane fantastico eh nooo ma quanti palle avevo preso vabbè si cominciano a spazientirsi di fronte al possesso palla prolungato degli avversari vorrebbero vedere maggiore cattività è finita la prima dei campionati è andata dai buona intervista che serve in questo in questi momenti buona intervista che serve in questo in questi momenti non 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 Sì. Grazie a tutti. Andiamo a controllare. Andiamo a giocare con questa partita qui. Andiamo a giocare con questa partita. Il calcio inglese non è, e lo sappiamo bene, soltanto Premier League. C'è anche la IFL Championship, protagonista di questo match davvero affascinante. Match che promette golle, spettacolo tra due squadre davvero immontibili da retto. Già, ci ho provato. Oh, che stile. Ha compiuto davvero un miracolo per negare il gol all'attaccante. Nonostante siamo solo alla seconda giornata, tutte le attenzioni sono rivolte a questo infuocato derby che mette in baglio ben più che i tre punti. Capisce tutto e ferma l'azione. Bene. Riflettori puntati su di lui per questo match, è un giocatore che può fare sicuramente... All'interessante dello spazio, ma l'invitante, attenzione. E trovano subito il gol che sbocca la partita. Partenza a razzo per loro. Ha lasciato partire una cannonata. Nulla da fare per il portiere che ha solo potuto guardare il pallone entrare sulla sua sinistra. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Pallone interessante. Vediamo cosa inventa ora. Spazzano via il pallone. No! No! Porca miseria! Riconquista palla con un contrasto rubido ma regolare. Occhio al pallone filtrante. Riceve palla, pericolo da lì. Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante. Bene. Ma che ovviamente lascia ancora qualche spriraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio. Può colpire da lì. Questa no è più... Sarà più difficile a segnare, me lo sento. I squadri sono più forti. Bravo qui a smarcarsi. C'è spazio in avanti. E c'è il gol! Palla in rete! E la palla si infila nell'alto. E la palla si infila nell'alto. Il colpire non può arrivare. Per sostituire... Grande freddo di gole. È riuscito a segnare infilando il colpire nell'angolino basso. Oh, mondo. La ripartenza micidiale. L'attaccante si è presentato solo davanti al colpire. E non ha sbagliato. Ha sfruttato la perfezione e la chance che gli è capitata. Bravo. Mamma mia. Eh, stai. Io però ho anche speso poco come giocatore. 1.6.5 milioni ho fatto. Meno di quello che volevano. Perché volevano 1.6 milioni. Sono riuscito a fare qualcosina meno. Sono sicuro che riusciamo anche a guadagnarne molti molti di più. Sì. Ha questo presentimento che possiamo apprezzare meglio dal replay. È conclusione che è terminata allo stesso. In fondo la rete. È una partita a senso unico, davvero? L'arbitro che chiude una prima frazione assolutamente a senso unico. 4-0 fino a questo momento. Beh, siamo in championship, quindi è come dire la serie B. Quindi è già un canale. Comincia il secondo tempo. Complicato, ovviamente, il recupero. Grande distanza fra le due squadre. Può ricevere la posizione interessante. Poco verticale interessante. Vediamo cosa fa ora. Tira, Mattarese. Porca miseria. Una sicurezza per tutta la difesa, la sua. Eh sì, Pier. Non può concedersi distrazioni o sono guai. Palla che resta in zona pericolosa. Si immola il difensore. Ottimo l'intervento del portiere. Eh sì. La mette in area. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avasseriano. Il nostro cliente è... Perfezionato l'acquisto di un giocatore importante, seguito da molte altre società. È sicuramente un buon giocatore che, credo, avrà un grosso impatto su questa squadra. Ma l'interessante dello spazio... E' il pallonetto! Vai! Una giornata che non dimenticherà. È arrivato la ripresa. Il secondo anche in sete sta crescendo molto, molto bene. Ehm... Ehm... 5-0. Partita assolutamente in cassaforte. Una sola squadra in campo. Avanzano, riescono a fermarlo. Attenzione. Attenzione, occasione! Oh! Pallone malcalibrato e difesa che recupera. Pallone troppo... Vai, segna! E segnala anche lui! Grande squadra, grande squadra. La squadra sta crescendo bene, eh? Protagonista di una discesa irresistibile! Fibile! Ehm... Sei trovato a tu per tu col portiere. Eh beh... Questa splendida giocata. Non ha sbagliato. Questo Hamilton... L'abbiamo preso dalle gio... Siamo nelle fasi finali della gara. Del vivaio è una potenza assoluta, eh? Siamo già a 65. È cresciuto tantissimo. È il sostituto perfetto per Matarese. Eh sì. Gran palla. Che gol! Frendi da rete! Contropiede dal manuale. Ha preso d'infilata la difesa e non ha lasciato scampo al portiere. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. C'è la segnalazione. Saranno tre i minuti di recupero a una mostra dalla lavagna. E secondo gli allenatori, Pier, ci possono stare questi tre minuti. Beh, io la farei anche di nuovo. Ma di questa ce l'ha, eh? Si libera bene qui. Ecco il gol! Bene, bene. Modo ideale per festeggiare una vittoria netta. Questo gol corona la splendida prestazione di tutta la squadra. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Non c'è più tempo. Bene. La pol Н. La polna lena 사람 er катł. Non c'è più tempo. Non c'è più tempo. Acc italseare una cilindra. Non c'è più tempo. Non c'è più tempo. Ben. Non cambia la password. La polna la la. Ed.